Noi siamo i Boogie Machine, noi siamo un duo, veniamo da Caserta. Noi diciamo sempre che si fa due, ma si fa già troppo. Suoniamo il blues perché il blues è una maledizione, dai diavoli blu, quelli del Mississippi, quindi Blue Evils, da cui deriva blues, noi suoniamo questo, siamo la difficoltà dell'andare avanti, ma la voglia di farlo per affrontare il futuro. Già da ragazzini suonavamo in trio e strippellavamo un po' Hendrix e Baye, poi ci siamo ritrovati a distanza di qualche anno partendo un po' più dalle radici, siamo partiti dal Delta, Robert Johnson e Baye. Guida Boogie Machine, Ciro Viscione e Simone Lino, un saluto a tutta l'organizzazione del Gara Blues, un abbraccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.